La Federazione delle Chiese Evangeliche è presente in Libano da fine del 2015 in seguito alla firma di un protocollo d'intesa col Ministero degli Esteri e col Ministero degli Interni in base al quale la Federazione insieme alla Tavola Valdese e insieme alla comunità di Sant'Egidio avevano il permesso da parte del governo di portare in Italia un certo numero di rifugiati siriani presenti in Libano. Da allora questo protocollo che è tuttora in vigore ed è alla sua terza firma ha portato oltre 2.000 rifugiati siriani in Italia e quindi la federazione è presente in quell'area geografica sia per questo motivo ma anche perché sta portando avanti un progetto chiamato Medical Hope di aiuto sanitario ai rifugianti e alla popolazione povera libanese.